siamo appena arrivati all'aeroporto di madrid io sto andando a noleggiare la macchina nel frattempo andrea aspetta le le varie valigie così accorciamo un po i tempi e poi andiamo in in hotel e a cena siccome elena non sa parlare parlo un po io allora 25 gradi clima mite la spagna ci sentiamo un po più a casa perché un po come l'italia e siamo pronti per questo weekend gas abbiamo comprato una palletta per il nostro turbino turbo ti pensiamo sempre è quello che vorrei Sì, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. 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 E Andrea non ha voglia. Grazie a tutti. E questo weekend specialmente mucchi di vestiti, tutto a lavare perché giovedì partiamo per andare in Italia e andiamo già una settimana prima della gara a Riola. Quindi ho veramente poco tempo per rilavare tutto, sistemare il camper, caricare il camper e partire comunque. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Grazie mille ragazzi e ciao!